Geneir, parte prima, capitolo terzo. Appena tornai in me, pervenni ad uscire da un incubo spaventoso e di veder dinanzi agli occhi una luce rossastra a strisce nere e fitte. Sentii alcune voci sommesse coperte dal rumore dell'acqua e del vento. L'agitazione, l'incertezza e un senso di terrore, avevano gettata una grande confusione nella mia mente. Dopo poco mi accorsi che qualcuno si avvicinava a me, mi sollevava collocandomi in una posizione più comoda. Nessuno mi aveva mai trattato fino a quel momento con tanta sollecitudine affettuosa. Sentii appoggiarmi la testa su un guanciale o su un braccio e provai un senso di benessere. In cinque minuti lo smarrimento era scomparso. Mi accorsi di esser colicata nel mio letto e che la luce rossastra era quella del fuoco. Era notte. Una candela ardeva sulla tavola. Bessi stava ritta a piede il letto con una catinella in mano e un signore, seduto al mio capezzale, si chinava su di me. Provai un indicibile sollievo, un senso di protezione e di sicurezza, quando mi accorsi che un estraneo era in camera mia, un individuo che non apparteneva a Gateshead né alla famiglia della signora Reed. Volgendo lo sguardo da Bessi, benché la sua presenza mi fosse molto meno incresciosa che quella di Abbott, esaminai il volto dell'estraneo. Lo conoscevo, era il signor Lloyd, un farmacista chiamato qualche volta dalla signora Reed quando i servi erano malati, perché per sé e per i figli ricorreva al medico. Chi sono? Domandò egli. Pronunziai il suo nome, stendendogli la mano. Egli la prese e disse sorridendo. Tutto andrà bene fra poco. Poi mi distese con cura, raccomandando a Bessi che nessuno mi disturbasse durante la notte. E dopo aver fatto altre prescrizioni e assicurato che sarebbe tornato il giorno dopo, uscì, con mio grande dispiacere. Mi sentivo così ben protetta e così curata mentre egli stava seduto al mio capezzale. Così, quando la porta si chiuse dietro a lui, mi parve che tutto si oscurasse. Il mio cuore fu depresso di nuovo da una inesprimibile tristezza. «Avete bisogno di dormire, signorina?» domandò Bessi con una certa dolcezza nella voce. Non osavo rispondere per timore di sentire quella voce rifarsi aspra. «Proverò», dissi. «Volete bere o desiderate mangiare qualche cosa?» «No, Bessi, vi ringrazio». «Allora vado a letto, perché è mezzanotte passata, ma potete chiamarmi se avete bisogno di qualche cosa». Che gentilezza sorprendente! Essa mi dette animo a rivolgerle una domanda. «Bessi, che cosa mi è accaduto? Sono forse ammalata? Credo che a forza di piangere siate svenuta nella camera rossa». Bessi andò nella stanza attigua destinata alla servitù e udì che diceva. «Sara, venite a dormire con me nella camera dei bambini. Non vorrei stare sola con quella povera piccina che potrebbe morire. L'accesso che ha avuto è così strano. Davvero che la signora è stata troppo dura con lei». Sara tornò insieme con Bessi e tutte e due andarono a letto. Le sentii parlare a voce bassa per una mezz'ora prima di addormentarsi e afferrai qualche frase della loro conversazione di cui indovinai l'argomento. «Una forma tutta strana l'è passata davanti ed è sparita. Un grosso cane nero la inseguiva. Tre violenti colpi alla porta della camera. Un lume nel cimitero proprio sopra la tomba. Questo e altro», dicevano le due donne. Alla fine si addormentarono e la candela continuò a bruciare. Passai la notte vegliando angosciosamente. I miei occhi, i miei orecchi, il mio spirito erano tesi per la paura. Una di quelle paure di cui i bimbi soltanto sono capaci. Nessuna malattia lunga e seria tenne dietro a quell'incidente della camera rossa. Esso dette soltanto una scossa tale ai miei nervi che la risento tuttora. «Sì, signora Reed, grazie a voi ho sofferto le dolorose angosce della sofferenza mentale. Ma devo perdonarvi, perché ignara di quello che facevate, perché credendo di sradicare le mie cattive tendenze, mi spezzavate il cuore. La mattina dopo, verso mezzogiorno, ero alzata e vestita e, dopo essermi rinvoltata in uno scialle, mi ero seduta accanto al fuoco. Mi sentivo debole e affranta, ma la mia maggior sofferenza proveniva da un grande abbattimento di spirito che mi strappava lacrime mute. Appena ne aveva rasciugata una, un'altra mi scendeva sulle guance. Eppure avrei dovuto essere felice, perché nessuno dei Reed era in casa. Erano tutti usciti in carrozza con la loro mamma. Anche Hubbot cuciva in un'altra stanza e Bessie, che andava e veniva per riordinare i cassetti, mi rivolgeva di tanto in tanto una parola straordinariamente dolce. Avrei dovuto credermi in paradiso, a sue fatta come ero a continui rimproveri e a sforzi incompresi. Ma i miei nervi erano così scossi che la calma non poteva più calmarli e il piacere non poteva più eccitarli piacevolmente. Bessie scese in cucina e mi portò una piccola torta su un bel piatto cinese coperto di uccelli del paradiso, posati su convolvoli e bocci di rose. Quel piatto aveva sempre suscitato in me una viva ammirazione. Avevo spesso chiesto il permesso di prenderlo in mano per guardarlo con agio, ma fino allora ero stata riputata indegna di quel favore e ora quella preziosa porcellana era posata sulle mie ginocchia e mi invitava amichevolmente a mangiare il dolce che conteneva. Vano favore! esso giungeva troppo tardi, come quasi tutti i favori lungamente desiderati e spesso negati. Non potei mangiare la torta e le piume degli uccelli e le tinte dei fiori mi parvero sbiaditi. Misi da parte il piatto e la torta. Bessie mi domandò allora se volevo un libro. Quella parola libro mi produsse una puntura momentanea. Peraltro le chiesi di portarmi il viaggio di Gulliver che era nella biblioteca. Avevo letto e riletto quel libro sempre con nuovo piacere. Prendevo quei racconti come fatti veri e vi trovavo più soddisfazione che nei racconti delle fate, perché dopo aver cercato in vano le silfidi fra le campanule, i muschi, le foglie e le edere che coprivano i vecchi muri, mi ero al fine rassegnata pensando che esse avessero abbandonato l'Inghilterra per rifugiarsi in qualche paese, dove i boschi fossero più incolti, più folti, dove gli uomini avessero maggior bisogno di loro. Mentre che Lilliput e Brobdenegg erano collocati per me in qualche angolo della terra e non dubitavo che un giorno, potendo fare un lungo viaggio, avrei veduto i piccoli alberi, i piccoli campi, le piccole case di quel popolo minuscolo, le vacche, le pecore, gli uccelli di uno dei regni, o le alte foreste, i cani enormi, i mostruosi gatti, gli uomini immensi dell'altro impero. Pure quando quel caro libro fu posto fra le mie mani, quando mi misi a sfogliarne le pagine, cercando nelle vignette l'attrattiva che mi avevo sempre trovata, tutto mi parve cupo e nudo. I giganti non erano più altro che spettri scarni, i pigmei altro che genietti perfidi, Gulliver, un viaggiatore disperato e errante in regioni pericolose e spaventose. Chiusi il libro e lo posai sulla tavola accanto alla torta che non avevo assaggiata. Bessi aveva terminato di mettere in ordine la camera e, dopo essersi lavate le mani, aprì un cassetto e ne cavò alcuni pezzi di seta scintillante per fare un cappello nuovo alla bambola di Giorgiana. Ella incominciò a cantare c'era una volta tanto tanto tempo fa quando vivevamo come zingari. Avevo spesso udito quel canto e mi rendeva spesso allegra, perché Bessi aveva una voce dolce, almeno mi pareva tale, ma in quel momento, nonostante che la sua voce fosse sempre la stessa, pure i suoi accenti mi parevano impregnati di immensa tristezza. Qualche volta, occupata dal lavoro, ripeteva il ritornello a voce bassissima e queste parole, c'era una volta tanto tanto tempo fa, mi facevano l'impressione di un inno funebre. Ella intonò un'altra ballata, veramente malinconica, che diceva i miei piedi sono feriti, le mie membra sono stanche, la via lunga, la montagna è selvaggia, ben presto il triste crepuscolo, che la luna non rischiarerà più con i suoi raggi, spanderà le tenebre sul cammino del povero orfanello. Perché mi hanno mandato così solo e così lontano, là ove si stendono le paludi, là ove sono ammonticchiate le cupe rocce. Il cuore dell'uomo è duro e i buoni angioli solamente vegliano i passi del povero orfanello. Però la brezza della sera soffia dolcemente, il cielo è senza nubi e le stelle scintillanti spandono i loro puri raggi. Il Dio, nella sua bontà, concede protezione, sostegno e speranza al povero orfanello. Anche se cadessi passando sul ponte in rovina, anche se dovessi errare, attratto da fuochi fatui nelle paludi, mio padre che è in cielo, mormorerebbe nel mio orecchio promesse e benedizioni e stringerebbe sul suo cuore l'orfanello. Questo pensiero deve infondermi coraggio, benché non abbia né ricovero né genitori. Il cielo è la mia casa e lassù non mi mancherà il riposo. Il Dio è l'amico del povero orfanello. Venga, signorina Jane, non pianga, esclamò Bessy quando ebbe terminato. Tanto valeva dire al fuoco di non bruciare. Ma come avrebbe fatto ella a indovinare le sofferenze alle quali ero in preda? Il signor Lloyd tornò a vedermi. «Come? Già alzata?» disse entrando. «Ebbene, Bessy, come sta la piccina?» Bessy rispose che stavo bene. «Allora dovrebbe essere più allegra. Venite qui, signorina Jane. Vi chiamate Jane, non è vero?» «Sì, signore, Jane Eyre». «Ebbene, avete pianto, signorina Jane Eyre. Mi potete dire per chi? Avete qualche dispiacere?» «No, signore». «Piange, certo, perché non ha potuto andare in carrozza con la signora?» disse Bessy. «Oh no, è troppo grande per piangere per una sciocchezza simile». Io la pensavo pure così e sentendo offeso il mio amor proprio risposi prontamente. «Non ho pianto mai per una inezia di quel genere. Detesto di uscire in carrozza. Ho pianto perché sono infelice». «Vergogna, signorina!» disse Bessy. Il buon farmacista rimase impacciato. Ero ritta davanti a lui ed egli fissò su di me i suoi occhi scrutatori. Erano grigi, piccoli e mancavano di splendore. Ora mi pare che li giudicherei penetranti. Era brutto, ma aveva l'aspetto buono. Dopo avermi considerata con agio, mi disse. «Che cosa vi fece ammalare ieri?» «Cadde», disse Bessy, prendendo di nuovo la parola. «Cadde? È forse una bimba piccina? Non sa camminare alla sua età. Deve avere otto o nove anni». «Mi hanno buttata in terra», risposi vivamente, sentendo di nuovo una ribellione di amor proprio. «Ma non per quello mi sono ammalata», aggiunsi mentre il signor Lloyd si consolava con una presa di tabacco. Mentre egli riponeva in tasca la tabacchiera, si sentì la campana che annunciava il pranzo della servitù. «Vi chiamano, Bessy», disse il farmacista volgendosi verso la bambinaia. «Potete scendere. Io leggerò qualche cosa alla signorina Jane finché non tornerete». Bessy avrebbe preferito di rimanere, ma fu costretta a scendere perché sapeva che l'esattezza era un dovere che occorreva compiere a Gateshead. «Se non è la caduta che vi ha fatto ammalare? Che cos'è stato, dunque?» Continuò il signor Lloyd quando Bessy se ne fu andata. «Mi hanno rinchiusa sola nella camera rossa che è visitata la notte da uno spirito». Vidi il signor Lloyd sorridere e aggrottare le sopracciglia. «Uno spirito? Siete davvero una piccinuccia se avete paura degli spiriti?» «Sì, ho paura dell'ombra del signor Reed che morì in quella camera e di là fu portato a sotterrare. Ne Bessy ne altri entrano la sera in quella stanza, se ne possono fare a meno. Ed è stata una crudeltà di rinchiudermici sola senza lume, tanta crudeltà che mi pare di non potermene scordare più». «Ciocchezze! E fu quello che vi rese infelice? Avete paura anche di giorno?» «No, ma la notte tornerà fra poco. Del resto sono infelice per altre ragioni». «Quali? Ditene qualcuna». Come avrei desiderato di rispondere sinceramente a quella domanda? Ma come era difficile il farlo? I bimbi sentono, ma non analizzano i loro sentimenti, e se col pensiero riescono a far parzialmente quell'analisi, non sanno tradurla in parole. Però, siccome temevo di perdere la prima e farne l'unica occasione di mitigare il mio dolore sfogandolo con altri, feci dopo un istante di turbamento questa breve ma sincera risposta. «Prima di tutto, non ho né padre né madre, né fratelli né sorelle». «Avete però una buona zia e dei buoni cugini?» Feci una pausa e poi risposi francamente. «John Reed mi buttò in terra e la zia mi rinchiuse nella sala rossa». Il signor Lloyd, per la seconda volta, ricorse alla sua tabacchiera. «La villa di Gateshead non vi par bella? Non siete riconoscente di vivere in una casa così bella?» «Non è la mia casa, signore, e Hubbot dice che ho meno diritto che una serva di abitarvi». «Non siete, spero, tanto stupida da desiderare di andarvene?» «Se potessi andare altrove sarei ben contenta di lasciarla, ma non posso farlo finché sono piccina». «Forse potreste, chissà. Avete altri parenti oltre la signora Reed?» «Non credo, signore». «Nessuno dal lato paterno?» «Non so». «Lo domandai una volta alla signora Reed. Ella mi disse che potevo avere qualche parente povero che portasse il cognome di Heir, ma che non sapeva nulla di loro». «Se ne aveste, vorreste andare con essi?» «Riflettei. La povertà sgomenta gli uomini e più ancora i bambini. Essi non hanno idea di una povertà industrie, operosa e rispettabile. La parola evoca nella loro mente l'immagine di vesti stracciate, di scarso cibo, di focolare spento, di cattive maniere e di vizi degradanti. Per me povertà era sinonima di degradazione». «No», risposi. «Non vorrei appartenere a povera gente». «Nemmeno se fosse buona con voi». Scrollai la testa. Non potevo capire come avrebbe potuto esser buona quella gente se era povera. E poi imparare a parlare con i poveri, acquistare le loro maniere, non avere educazione, crescere come quelle misere donne che vedevo allattare i bimbi e lavare il bucato sulla porta delle casupole del villaggio. No, non ero abbastanza eroica per acquistare la libertà col suo corteo di miserie». «Ma i vostri parenti sono dunque tanto poveri? Sono forse operai?» «Non saprei dirlo. Mia zia assicura che, se ne ho, debbono appartenere alla classe dei mendicanti e io non vorrei chiedere l'elemosina». «Vorreste andare in pensione?» Riflettei di nuovo. Sapevo appena che cos'era una pensione. Bessi me ne aveva parlato come di una casa dove le ragazze erano sedute su panche di legno davanti a una tavola grande e dove si esigeva da loro dolcezza e puntualità. John Reed odiava la sua pensione e si burlava dei maestri, ma i gusti di John non potevano essere di norma ai miei. Sei particolari che mi aveva dati Bessi, particolari che aveva appresi dalle ragazze di una casa dove aveva vissuto prima, mi sgomentavano un poco, ero però attratta dalle cognizioni che quelle stesse ragazze avevano acquistate. Bessi mi vantava i bei paesaggi, i fiori graziosi dipinti da loro, poi sapevano cantare romanze, recitare e tradurre libri francesi. Ascoltando Bessi il mio spirito era stato colpito e sentivo destarsi in me l'emulazione. Del resto la pensione condurrebbe seco un cambiamento di vita, riempirebbe una lunga giornata, mi allontanerebbe dagli abitanti della villa, sarebbe infine il principio di una nuova esistenza. Come sarei contenta di andare in pensione? Risposi senza più esitare. Ebbene, chissà che cosa può accadere, mi fece il signor Lloyd alzandosi. Per questa bimba ci vorrebbe un cambiamento d'aria e di luogo, aggiunse come se parlasse a se stesso. I suoi nervi non sono in buono stato. In quel momento entrò Bessi e si sentì il rumore della carrozza della signora Reed nel cortile. E la vostra padrona Bessi? domandò il signor Lloyd. Vorrei parlarle avanti di andarmene. Bessi lo invitò ad entrare nella stanza da pranzo e camminò davanti a lui per insegnargli la via. Nel colloquio fra il farmacista e la signora Reed suppongo che egli la spingesse a mettermi in pensione. Questo consiglio fu certo accettato subito perché la sera stessa Abbott e Bessi vennero nella camera dei bambini e credendomi addormentata si misero a parlare su quell'argomento. La signora, diceva Abbott, è molto contenta di sbarazzarsi di quella noiosa bambina che pare sorvegli sempre tutti e mediti qualche complotto. Suppongo che Abbott mi credesse un'altra Guy Fox bambina. Allora seppi per la prima volta dai discorsi che Abbott fece a Bessi che mio padre era un povero pastore, che mia madre lo aveva sposato contro il volere dei suoi, che consideravano quel matrimonio inferiore alla sua condizione. Il nonno Reed, irritato da quella disubbidienza, aveva diseredato la mamma. Dopo un anno di matrimonio mio padre fu attaccato dal tifo, aveva preso il contagio assistendo i poveri di una grande città manifatturiera dove quell'epidemia faceva strage. Mia madre si ammalò assistendolo e tutti e due morirono alla distanza di un mese. Bessi, dopo aver ascoltato questo, sospirò dicendo, povera signorina Jane, merita davvero compassione. Sì, rispose Abbott, se fosse una bella creatura si potrebbe aver pietà del suo abbandono, ma chi può guardare un rospetto simile? È vero, rispose Bessi esitando, è certo che una bellezza come la signorina Giorgiana vi commoverebbe più se fosse nella stessa posizione. Sì, esclamò l'ardente Abbott, tengo per la signorina Giorgiana, cara piccina, con i suoi lunghi riccioli, con quegli occhi azzurri e quella dolce carnagione, pare dipinta. Bessi, avrei voglia di un po' di coniglio per cena. Anch'io, con le cipolle arrostite. Venite, andiamo giù. E uscirono. Capitolo quarto. Dopo il mio colloquio col signor Lloyd e i discorsi che avevano scambiati Bessi e Abbott nutrivo speranza che un cambiamento si operasse nella mia situazione ed ero impaziente di star meglio. Desideravo e speravo in silenzio, ma intanto i giorni e le settimane passavano senza che avvenisse nulla di nuovo. Avevo recuperato la salute, ma non si parlava appunto della cosa che stavami tanto a cuore. La signora fissava talvolta su di me uno sguardo severo, ma non si parlava quasi mai. Dopo la mia malattia era stata tirata una linea più profonda di demarcazione fra me e i suoi figli. Mi era stato assegnato uno stanzino per dormirvi sola. Ero stata condannata a non mangiare più alla tavola di famiglia ed a rimanere nella camera dei bambini mentre i miei cugini stavano in salotto. Mia zia non parlava mai di mandarmi in pensione, ma io sentivo istintivamente che ella non mi avrebbe tollerata a lungo sotto il suo tetto perché lo sguardo che ogni tanto fissava su me rivelava un'avversione insormontabile. Eliza e Georgiana ubbidivano evidentemente agli ordini che erano stati dati loro e mi parlavano il meno possibile. John mi faceva le boccacce ogni volta che mi incontrava. Un giorno tentò di percuotermi, ma vedendo che io mi volgeva contro di lui animata dallo stesso sentimento di ira profonda e di disperata ribellione, che una volta si era impossessata di me, rinunziò al tentativo e corse via lanciandomi in properi e urlando che gli avevo rotto il naso. È vero che avevo percosso con tutta la forza del pugno quella parte sporgente del volto di lui e quando mi accorsi che la percossa e la potenza del mio sguardo lo avevano domato, vogli trarre da quel trionfo tutti i vantaggi possibili. Ma egli aveva già raggiunto sua madre e sentì che le raccontava, con voce piagnucolosa, che quella cattiva Jane lo aveva assalito come un gatto infuriato. Sua madre lo interruppe bruscamente. «Non mi parlate più di quella bambina, John!» disse ella. «Non merita che si badi a quello che fa. Non voglio che voi né le vostre sorelle vi associate con lei per giocare». Sporgendomi allora dalla balaustra della scala, mi misi a gridare senza riflettere alle mie parole. «Vuoi dire che non sono degni di giocare con me?» La signora Reed era una donna forte e robusta, e nel sentire quella strana e audace dichiarazione, salì di corsa alle scale e, più pronta del turbine, mi trascinò nella camera dei bambini, e spingendomi contro il mio letto, mi ingiunse, in tono enfatico, di non muovermi di lì e di non pronunciar parola in tutto il giorno. «Che cosa vi direbbe lo zio Reed se fosse vivo?» Le domandai quasi involontariamente, perché la lingua pronunziò queste parole senza il consenso della mente. Vi era in me una forza che mi spingeva a parlare nonostante la volontà di tacere. «Come?» esclamò la signora Reed respirando appena. Gli occhi di lei, grigi e per consueto freddi e immobili, furono turbati da un'espressione di terrore, e lasciò distringermi, incerta se fossi una bimba o un essere infernale. Tale ero infatti in quel momento. «Mio zio Reed è in cielo!» continuai. «E può vedere ciò che fate e pensate, e così pure il babbo e la mamma. Essi sanno che mi rinchiudete per giornate intere e che vorreste vedermi morta». La signora Reed si rimise subito, mi scosse violentemente, mi dette due schiaffi, e poi si allontanò da me, senza aprir bocca. Bessi supplì a quel silenzio, facendomi una predica che durò un'ora, provandomi che ero la bimba più cattiva e più abbandonata che vi fosse al mondo. Ero propensa a crederle, perché non sentivo sorgere dal cuore altro che cattive ispirazioni. Trascorsero novembre, dicembre e la metà di gennaio. Il Natale era stato celebrato a Gateshead con la consueta solennità. I doni erano stati scambiati e offerti pranzi e ricevimenti. Naturalmente io era esclusa da ogni divertimento. Tutta la mia parte di gioia consisteva nell'assistere, ogni giorno, alla toilette dell'Aisa e di Giorgiana, nel vederle scendere in sala con i loro vestiti leggeri di mussolina, le loro cinture rosa, i loro capelli arricciati con cura. Poi spiavo il suono del pianoforte e dell'arpa, il passaggio del cameriere e del servitore che portavano i rinfreschi, il rumore dei bicchieri e delle porcellane, i brani di conversazione che uscivano dal salotto, allorquando si apriva e si chiudeva la porta. Quando ero stanca di quell'osservazione, lasciavo la scala per tornare nella camera solitaria dei bambini. Benché quella stanza fosse un po' triste, non mi sentivo in essa infelice e non avevo alcun desiderio di scendere in salotto, ove raramente qualcuno avrebbe mi rivolta la parola. Se Bessie fosse stata buona con me, avrei preferito di passar tranquillamente le serate accanto a lei, piuttosto che sotto lo sguardo severo della signora Reed, in una stanza piena di gente elegante. Ma appena Bessie aveva vestite le padroncine, soleva scendere nelle rumorose regioni della cucina e della dispensa, e portava seco il lume. E allora mi sedevo con la bambola sulle ginocchia accanto al fuoco finché non si spegneva, gettando di tanto in tanto uno sguardo intorno a me, per assicurarmi che nessun fantasma era entrato nella stanza quasi buia. Quando la brace incominciava a impallidire, mi spogliava in fretta, tirando i nastri o i cordoni come sapevo, e andavo a cercare nel mio lettino un riparo contro il freddo e l'oscurità. Nel letto io portavo la bambola, e la rivolgeva con cura nella mia camicia da notte, e dopo averle fatte mille carezze, mi addormentavo relativamente contenta di poter amare e riscaldare quella pupattola sbiadita e cenciosa, che allora mi pareva viva e capace di sentire. Le ore scorrevano lunghe per me fino alla partenza degli invitati, e stavo sempre con l'orecchio teso per udire sulle scale il passo di Bessie. Ella veniva talvolta a prendere il ditale e le forbici e a portarmi per cena qualche pezzo di pasticcio. Allora, mentre io mangiavo, si sedeva accanto al letto, e quando avevo terminato, mi copriva e dicevami, baciandomi due volte, «Buonanotte, signorina Jane». In quei momenti Bessie mi pareva la più bella, più dolce e la più buona creatura che fosse sulla terra, e desideravo di vederla sempre così, e che non mi sgridasse più e cercasse di impormi i doveri irragionevoli, come faceva spesso. Bessie lì doveva essere una ragazza intelligente, perché le riusciva tutto quello che si metteva a fare e narrava benissimo. Almeno i racconti suoi mi sono rimasti impressi nella mente. Seramento bene, doveva essere anche bellina. Era alta, con i capelli neri e gli occhi scuri, i tratti delicati e la carnagione bianca, ma aveva un carattere vivo e capriccioso e indifferente rispetto ai grandi principi di giustizia. Pure, così com'era, la preferivo a tutti a Gateshead. Si era al 15 di gennaio e l'orologio aveva suonato le nove di mattina. Bessie era scesa a colazione. Le mie cugine non erano state ancora chiamate dalla loro mamma. Eliza si metteva il cappello e un mantello pesante per andar nel suo pollaio. Era quella la sua occupazione preferita, perché dal pollaio ricavava denari, vendendo le uova alla donna che dirigeva la casa. Ella aveva molta disposizione per il commercio e una singolare tendenza a risparmio, perché, non contenta di trafficare sulle uova e sui polli, cercava di far denaro anche con la vendita dei fiori e dei semi. Il giardiniere aveva ordine di comprare dalla bambina tutti i prodotti del suo giardino che ella volesse vendere, ed Eliza avrebbe venduto anche i capelli del capo se le avessero dato un utile. Il danaro soleva dapprima rimpiattarlo, dopo averlo ravvolto nella carta, ma essendo stati scoperti alcuni dei suoi nascondigli dalla cameriera, temette di perderlo un giorno o l'altro e lo affidò a sua madre, esigendo un interesse del 50 ed anche del 60%. Quest'interesse esorbitante lo ritirava ogni trimestre e, piena di ansiosa sollecitudine, notava in un taccuino il conto dei suoi incassi. Giorgiana era seduta su una sedia alta davanti allo specchio e intrecciava fiori artigianali e penne sbiadite trovate in soffitta ai suoi capelli. Io intanto rifacevo il letto, avendo avuto ordine espresso da Bessie di sbrigarmi prima che tornasse, perché Bessie mi impiegava spesso a pulire la camera come se fossi stata una donna di faccende. Dopo aver esteso la coperta e ripiegata la camicia, andai alla finestra dove trovai sparsi alcuni libri illustrati e giocattoli. Vogli metterli in ordine, ma Giorgiana mi ordinò duramente di non toccarla a roba sua. Essendo disoccupata, accostai le labbra ai fiori di ghiaccio che appannavano i cristalli, e presto riuscì a guardare fuori della finestra. Il terreno era indurito da una forte gelata. Da quella finestra si vedeva la casetta del portinaio e il viale dal quale entravano le carrozze. Il mio respiro caldo aveva, come ho detto, sbarazzato il cristallo dallo strato di ghiaccio, e così potevo veder fuori. Scorsi una carrozza che entrava e dirigevasi verso la casa. Molte carrozze venivano a Gateshead, ma i visitatori che conducevano mi erano sempre indifferenti. La carrozza si fermò davanti alla casa, si udì una scampanellata e il visitatore entrò. Siccome non mi importava di quel fatto, concentrai tutta la mia attenzione su un pettirosso che cantava sui rami nudi di un ciliegio che cresceva sotto la finestra. Avevo ancora un po' di pane della colazione e aprì la finestra per sminuzzarlo sul parapetto. In quel momento, Bessy salì precipitosamente le scale ed entrò in camera dicendo «Signorina Jane, si levi il grembiule? Che cosa fa? Se lavate le mani e il viso?» Avanti di rispondere, terminai di spargere il pane fuori della finestra, poi, richiudendola, risposi tranquillamente «No, Bessy, ho terminato di spolverare! Che bimba sciolta e disordinata! Che cosa facevate? Siete rossa come una colpevole! Perché avete aperto la finestra?» Non ebbi la noia di rispondere perché Bessy mostravasi troppo occupata per ascoltare le mie spiegazioni. Mi condusse al lavabo e con l'acqua e il sapone mi lavò ben bene le mani e il viso. Per fortuna fece presto, poi mi pettinò, mi tolse il grembiule e, spingendomi verso la scala, mi ordinò di scendere presto nella sala da pranzo, dove ero attesa. Stavo per domandare se la zia era giù, ma Bessy era sparita, chiudendo dietro a sé la porta della camera. Scesi lentamente. Da tre mesi non ero stata chiamata dalla signora Reed. Rinchiusa da tanto tempo nella camera del primo piano, il pianterreno era diventato, ai miei occhi, una regione imponente, nella quale entravo a malincuore. Giunsi nell'anticamera, davanti alla porta della sala da pranzo, là mi fermai timidamente. Le ingiuste punizioni mi avevano resa vile. Non osavo tornare su in camera, non osavo entrare nel salotto. Rimasi dieci minuti esitando, in preda all'agitazione. Una forte scampanellata mi rese coraggio. Dovevo entrare. Chi può aspettarmi? Dicevo fra me, mentre con tutte e due le mani giravo la maniglia, che resisteva ai miei sforzi. Chi troverò insieme con la zia? La maniglia cedette. La porta si aprì. Io mi inoltrai salutando profondamente e guardando intorno. I miei occhi si fermarono su qualcosa di lungo e di scuro, come una colonna nera. Riconobbi al fine la tetra figura vestita di nero, che mi stava davanti. La parte superiore di quello strano personaggio pareva una maschera fissata in cima a un lungo palo. La signora Reed occupava il suo posto consueto accanto al caminetto. Mi fece cenno di avvicinarmi, ubidì, e guardando il visitatore immobile, mi presentò a lui dicendo, ecco la bambina di cui vi ho parlato. Egli volse lentamente la testa dal mio lato, e dopo avermi esaminato con uno sguardo inquisitore attraverso i cigli neri e folti, mi domandò in tono solenne e a voce bassissima quanti anni avevo. Dieci, rispose la zia. Non pare che ne abbia tanti, osservò in tono di dubbio e prolungò per alcuni minuti il mio esame. Poi, dirigendosi a me, disse, come vi chiamate, piccina? Genair, signore. Nel pronunziare queste parole lo guardava. Mi parve alto, ma mi ricordo che io allora ero molto piccola. I tratti di lui mi parvero molto marcati, e vi scorsi, come nelle linee di tutta la persona, una espressione di durezza ed ipocrisia. Ebbene, Genair, siete una buona bambina? Era impossibile rispondere affermativamente. Quelli che mi circondavano credevano l'opposto, così tacqui. La signora Reed parlò per me, e scuotendo la testa, rispose rapidamente. Meno parleremo di ciò e meglio faremo, signor Brocklourst. Sono dolente davvero. Bisogna che parli un poco con lei. E rinunciando alla posizione perpendicolare, si sedette in una poltrona di fronte alla signora Reed, dicendomi di avvicinarmi. Poi, batte leggermente il piede, e mi ordinò di mettermi dinnanzi a lui. Il suo volto mi produsse uno strano effetto, quando vidi il naso enorme e grossissimi denti. Non vi è nulla di più triste che uno spettacolo che offre una bimba cattiva, riprese egli. Sapete dove vanno i peccatori dopo morti? La mia risposta fu rapida e ortodossa. All'inferno? replicai. E che cos'è l'inferno? Potete dirmelo? È un abisso di fiamme. Vorreste esser precipitate in quell'abisso e bruciarvi in eterno? No, signore. E che cosa dovete far dunque per evitare quella sorte? Riflettei un momento e questa volta gli fu facile attaccare la mia risposta. Devo star sana per non morire. Come farete? I bimbi piccini come voi muoiono giornalmente. Non è molto che ho sotterrato una bimba di cinque anni, ma era buona e la sua anima è volata in cielo. Non si potrebbe dire lo stesso di voi se foste chiamata nell'altro mondo. Non potendo far svanire quei dubbi, fissai gli occhi sui piedoni di quel signore e sospirai desiderando che quell'interrogatorio terminasse presto. Spero che codesto sospiro parta dal cuore, riprese il signor Brocklehurst. E che siate pentita di aver attristato sempre la vostra benefattrice. Dite le preghiere mattina e sera? Continuò il mio interrogatore. Leggete la Bibbia? qualche volta. Con piacere. Vi diletta quella lettura? Mi piacciono le rivelazioni, il libro di Daniele, la Genesi e Samuele e qualche brano dell'Esodo, dei re, delle cronache e mi piace anche Giobbe e Gionata. E i salmi? Spero che vi piaceranno. No, signore. Oh, che vergogna! Ho un bambino più piccolo di voi che sa già se i salmi ha mente. E quando gli si domanda se preferisce mangiare il pan pepato o imparare un versetto, risponde. Preferisco imparare un versetto perché gli angioli cantano i salmi e voglio essere un angioletto sulla terra. E allora gli si danno due pezzi di pan pepato in ricompensa della sua devozione infantile. I salmi non sono punto interessanti, osservai. È una prova che avete il cuore cattivo. Bisogna chiedere a Dio di cambiarlo, di concedervene un altro più puro, di togliervi quel cuore di pietra per darvene uno di carne. Cercavo di capire per quale processo potrebbe effettuarsi quel cambiamento, quando la signora Reed mi disse di sedermi e prese lei a dirigere la conversazione. Credo, signor Brocklehurst, di avervi accennato nella mia lettera di tre settimane fa che questa bimba non ha il carattere né le tendenze che avrei desiderato trovare in lei. Se dunque la mettete nella scuola di Lowood, domando che i capi e le maestre non la perdano d'occhio. La prego soprattutto di tenersi in guardia contro il suo più gran difetto. Intendo parlare della sua tendenza alla menzogna. Dico tutte queste cose in presenza vostra, Jane, aggiunse, per impedirvi di ingannare il signor Brocklehurst. Ero naturalmente inclinata a temere e a odiare la signora Reed, che pareva si studiasse di ferirmi sempre crudelmente. Non ero punto felice in presenza sua. Qualunque sforzo che facessi per ubbidirle e per piacerle, non ricevevo in cambio altro che rimproveri, come quello che ho riferito. Quest'accusa mi era inflitta dinanzi a un estraneo e mi riuscì amarissima. Vedeva vagamente che essa faceva svanire tutte le speranze che riponeva in quella nuova esistenza e che stavo per incominciare. Sentivo confusamente, e senza rendermene conto, che ella seminava l'avversione e il malvolere sulla via che stavo per percorrere. Mi vedevo trasformata agli occhi del signor Brocklehurst in una bimba falsa e mentitrice. Che cosa potevo fare per lavarmi da quell'accusa? Nulla, nulla, pensavo fra me, e mi sforzavo di reprimere un singhiozzo, e asciugavo rapidamente alcune lacrime, segno evidente di dolore. La menzogna è un brutto vizio in una bambina, disse il signor Brocklehurst, e chi avrà ingannato in vita sarà condannato a patire in eterno in un abisso di fiamme di zolfo. Ma sarà sorvegliata, parlerò di lei alla signorina Temple e alle maestre. Vorrei, continuò la signora Reed, che la sua educazione fosse adattata alla sua posizione, che la rendessero umile e operosa. Nelle vacanze vi chiedo il permesso di lasciarla a Lowood. Le vostre intenzioni sono molto sagge, signora. Riprese, signor Brocklehurst. L'umiltà è virtù cristiana, ed è necessaria soprattutto alle alunne di Lowood. Chiedo continuamente che si ponga ogni cura nell'ispirarla a loro. Ho lungamente cercato i migliori mezzi per mortificare in esso il sentimento mondano dell'orgoglio, e l'altro giorno ho avuto una prova del mio successo. La mia figlia, secondo genita, continuò dopo una pausa il signor Brocklehurst, e andata insieme con sua madre a visitare l'istituto. E tornando ha esclamato, «Oh, babbo, quelle bimbe di Lowood, come paiono tranquille e semplici, con i capelli rialzati d'oltre l'orecchio, con i loro lunghi grembiuli, con i loro vestiti, con le tasche cucite di fuori. Esse sono vestite quasi come le figlie dei poveri, e guardavano gli abiti di mamma e i miei, come se non avessero mai veduta la seta.» «Ecco una disciplina che approvo completamente», continuò la signora Reed. «Se avessi cercato in tutta l'Inghilterra, non avrei trovato nulla di meglio per il carattere di Jane. Ma, mio caro signor Brocklehurst, chiedo l'uniformità su tutti i punti.» «Certo, signora, è uno dei primi doveri cristiani, e a Lowood l'abbiamo osservato in tutto. Cibo e abiti semplici, un'agiatezza che ci guardiamo bene dall'esagerare, vita dura e laboriosa. Ecco la regola di quella casa.» «Benissimo, signore. Allora posso essere certa che questa bambina sarà accettata a Lowood, che vi sarà educata come richiede la sua posizione e in vista dei suoi doveri futuri.» «Potete esserlo, signora. Ella sarà collocata in quell'asilo di piante scelte, e spero che l'inestimabile favore della sua ammissione la renderà riconoscente.» «Ve la manderò il più presto possibile, signor Brocklehurst, perché ho fretta, vi assicuro, di liberarmi di una responsabilità che diviene pesante.» «Senza dubbio, senza dubbio, signora. Sono costretto a dirvi addio. Non ritornerò alla mia villa altro che fra un paio di settimane, perché il mio buon amico, l'Arcidiacono, non vuole che la lasci prima. Ma farò dire alla signora Temple di attendere una nuova luna. Addio, signora.» «Addio, signore. Salutatemi la signora e la signorina Brocklehurst.» «Non mancherò. Piccina», disse volgendosi a me. «Ecco un libro intitolato La guida dell'infanzia. Leggerete le preghiere che contiene, ma leggete soprattutto questa parte. Vi vedrete narrata la morte della piccola Martha G., bimba cattiva che, come voi, aveva il vizio di mentire.» Nel dire queste parole, il signor Brocklehurst mi pose in mano un opuscolo ben avvolto nella carta e, dopo aver chiesto la sua carrozza, ci lasciò. Rimasi sola con la signora Reed. Alcuni minuti trascorsero in silenzio. Ella cuciva e io stavo a guardarla. Ella poteva avere trentasei anni. Era una donna robusta, con le spalle quadre. Non era grassa, benché fosse forte e piccola, e il volto pareva largo per l'eccessivo sviluppo del mento. Aveva la fronte bassa, la bocca e il naso regolari. I suoi occhi, senza bontà, brillavano sotto le ciglia scolorate. Era scura di carnagione e aveva i capelli biondi. Non sapeva che cosa fosse la malattia e guidava la casa e amministrava i suoi beni con cura e attività. I figli solo non rispettavano la sua autorità. Ella si vestiva con gusto e portava bene vestiti. Ciò che era avvenuto, ciò che la zia aveva detto al signor Brocklehurst, tutta la loro conversazione, ancora recente e dolorosa, mi restava in mente. Ogni parola mi aveva ferita e stavo là, agitata da un vivo risentimento. La signora Reed alzò gli occhi dal lavoro, li fissò su di me e mi disse, uscite, tornate in camera. Il mio sguardo o qualcos'altro forse l'aveva ferita, perché, nonostante che si contenesse, il suo accento era molto irritato. Mi alzai e mi diressi verso la porta, ma tornai subito addietro. Mi accostai alla finestra, poi andai nel mezzo della stanza e finalmente mi accostai a lei. Non sono finta, se lo fossi stata avrei detto che vi volevo bene, ma non vi voglio bene e lo dichiaro. Vi odio più che ogni altro, eccettuato Johnny Reed. Questo racconto di una bugiarda potete darlo alla vostra Giorgiana, perché è lei che vi inganna e non io. Le dita della signora Reed erano rimaste immobili e con i suoi occhi di ghiaccio continuava a fissarmi. Che cosa avete da dirmi ancora? Mi domandò con un tono che sarebbe stato più adatto per parlare a una donna che a una bambina. Quello sguardo, quella voce, ridestarono tutte le mie antipatie. Commossa, aizzata da una invincibile irritazione, continuai. Sono felice che non siate mia parente e non vi chiamerò più zia. Non verrò mai a trovarvi quando sarò grande e quando qualcuno mi domanderà se vi voglio bene e come mi trattate. Gli dirò che il vostro ricordo mi fa male e che siete stata crudele con me. Come, Jane? Osereste affermare cose simili? Sì, oserei, signora Reed. Oserei perché è la verità. Credete forse che non senta e che possa vivere senza che nessuno mi voglia bene e sia buono per me? No, e voi non avete avuto pietà di me. Mi rammenterò sempre con quanta durezza mi avete respinta nella camera rossa. Quale sguardo mi avete gettato quando ero in agonia. Eppure, oppressa dal dolore, vi avevo gridato, zia, abbiate pietà di me. E quella punizione me l'avevate inflitta perché era stata percossa, gettata in terra dal vostro perfido figliuolo. Dirò la pura verità a tutti quelli che mi interrogeranno. Credono che siate buona, ma avete il cuore come un masso e siete falsa. Quando ebbi cessato di parlare, il più strano sentimento di trionfo che abbia mai provato era sinpossessato di me. Credei che un'invincibile catena si fosse infranta e che avessi riconquistata la mia libertà. Potevo crederlo, infatti, perché la signora Reed pareva sgomenta. Il lavoro l'era scivolato di grembo, alzava le mani e sul volto contratto si sarebbe detto che stessero per riscendere le lacrime. Jane, vi sbagliate? Che cosa avete? Perché tremate tanto? Volete bere un po' d'acqua? No, signora Reed. Desiderate qualche altra cosa, Jane? Vi assicuro che vorrei esservi amica. Non è vero. Avete detto poco fa al signor Brocklurst che avevo un cattivo carattere, che ero una bugiarda. Ma tutti a Lowood saranno informati della vostra condotta. Jane, non potete capire certe cose. I bambini debbono essere corretti nei loro difetti. La menzogna non è il mio difetto, esclamai con voce piena di collera. Ma siete violenta? Dovete confessarlo. E ora tornate in camera vostra, mia cara, e cercate di dormire un poco. Non sono la vostra cara e non posso dormire. Mandatemi subito in pensione, signora Reed, perché questa casa mi è odiosa. Sì, sì, voglio mandartici più presto che posso, disse sottovoce e prendendo il lavoro uscì precipitosamente dalla stanza. Ero rimasta sola, padrona del campo. Era la più tremenda battaglia che avessi combattuta e la prima vittoria riportata. Restai un momento seduta al posto, ovvero prima al signor Brocklurst, assaporando la mia solitudine di conquistatrice. Prima sorrisi a me stessa e mi sentì sollevata. Ma quel feroce piacere cessò col cessare dei violenti battiti del cuore. Una bimba non può insultare i suoi superiori, come avevo fatto io, non può dare sfogo alla collera, senza provare subito la puntura del rimorso e il gelo della reazione. Quando avevo accusato e minacciato la signora Reed, la mia anima era in fiamme. Ma dopo una mezz'ora di silenzio e di riflessione, riconobbi la pazzia commessa e la tristezza della mia posizione di bimba che odia e che è odiata. Per la prima volta aveva assaporata la vendetta e mi parve dolce e vivificante, ma la sensazione che lasciava in me era amara come il veleno. Allora sarei andata a chiedere scusa alla signora Reed, ma sapevo per istinto e per esperienza che me la sarei maggiormente inimicata ed avrei rieccitato i violenti impulsi della mia indole. Presi un volume di racconti arabi e cercai di leggere senza capire nulla. Il pensiero vagava e non potevo fissarlo né su me stessa né su quelle pagine che mi avevano procurato in passato tanto piacere. Aprii la porta a vetri della sala da pranzo. Il boschetto era silenzioso e il sole né il vento avevano potuto vincere il ghiaccio che copriva la terra. Mi coprii la testa con la sottana e andai a passeggiare in una parte isolata del parco senza provare alcun piacere sotto quegli alberi silenziosi, tra quelle pigne, ultimi avanzi dell'autunno di cui era coperta la terra in mezzo a quelle foglie secche ammonticchiate dal vento. Mi appoggiai al cancello guardando un campo deserto dove le vacche non passevano più, dove l'erba era stata affalciata dal gelo e coperta di neve. Era una giornata tristissima e ogni tanto le falde di neve cadevano al suolo indurito del biale senza liquefarsi. Ero tanto infelice e ogni tanto dicevo a me stessa. Che cosa devo fare? Sentì a un tratto una voce chiara gridare. Signorina Jane dove siete? Venite a colazione. Era Bessie, lo sapevo ma non risposi. Però poco dopo sentì un lieve rumore di passi. Ella traversava il viale per venir da me. Cattiva, mi disse, perché non venite quando vi si chiama? La presenza di Bessie mi parve dolce in confronto dei pensieri che mi torturavano, benché ella fosse, secondo il solito, di cattivo umore. È un fatto che dopo la mia disputa con la signora Reed e la mia vittoria faceva poco conto della collera passeggera della bambinaia ed ero pronta a cercare conforto nel suo giovane cuore. Le gettai le braccia al collo dicendole «Venite Bessie, non mi sgridate». Non mi ero mai mostrata così franca ed espansiva e il mio modo di fare le piacque. Siete una strana bambina, signorina Jane, mi disse fissandomi. Una bimba vagabonda e amica della solitudine. Andate in pensione, eh? Feci un cenno affermativo. E non vi dispiace di lasciare la povera Bessie? Che cosa sono per Bessie? Mi sgrida sempre. Perché vi mostrate bizzarra, timida, spaventata, piccina? Se foste più ardita? Sì, per essere picchiata. Sciocchezze! Ma è certo che non siete trattata bene. Mia madre, quando venne qui la settimana passata, disse che non vorrebbe vedere uno dei suoi figli al vostro posto. Ma ho una buona notizia per voi. Non ci credo. Bimba, che volete dire? Perché fissate su di me uno sguardo così triste? Ebbene, sappiate che il padroncino, la signora e le signorine sono andate a prendere il tè da un loro amico. Voi lo prenderete con me e dirò alla cuoca di farvi un dolce. E poi mi aiuterete a guardare nei cassetti, perché presto dovrò prepararvi il baule. La signora vuole che andiate via fra un paio di giorni. Così sceglierete la roba che volete portare con voi. Bessie, promettetemi di non rimproverarmi più fino alla partenza. Ebbene sì, ma siate buona e non abbiate paura di me. Non vi scostate quando alzo la voce, questo mi irrita i nervi. Sento che ora non ho più paura di voi, perché mi sono a sue fatte i vostri modi, ma dovrò presto temere di altre persone. Se le temerete, vi odieranno. Come voi, Bessie? Non vi odio, signorina. Mi pare anzi di volervi più bene che agli altri. Non me lo dimostrate davvero? Aspra creatura, ecco una nuova maniera di parlare. Che cosa vi rende così sicura ed ardita? Stavo per narrare quello che era avvenuto fra me e la signora Reed, ma riflettendo mi accorsi che era meglio tacere. Allora, siete contenta di lasciarmi? No, Bessie, no davvero. E in questo momento mi sento triste. In questo momento? Come lo dite freddamente, signorina? Sono sicura che se vi domandassi di abbracciarmi, mi direste di no. Oh no, voglio abbracciarvi e mi farete tanto piacere. Abbassate un po' con la testa. Bessie si chinò e ci abbracciamo, poi, divenuta tranquilla, la seguì in casa. Il dopo pranzo trascorse nella pace e nell'armonia. La sera Bessie mi narrò le più belle fra le sue novelle e mi cantò le più dolci canzoni. Anche sulla mia vita splendevano raggi di sole.